Alla vigilia dell'entrata delle marche in zona arancione che da oggi irrigidisce ancora di più il raggio d'azione per i cittadini non vaccinati, oltre un centinaio di pesaresi contrari al Green Pass si sono dati appuntamento in piazza del popolo domenica pomeriggio per una civile quanto provocatoria manifestazione di dissenso contro la certificazione verde e in particolare contro l'obbligo di Green Pass per accedere a bar e ristoranti. Le immagini postate dalla pagina Facebook del Movimento Io Apro mostrano infatti come le persone in questione abbiano organizzato un picnic improvvisato apparecchiando tavolini attorno alla fontana della piazza e abbiano pure banchettato sulla stessa fontana. Questa volta una manifestazione senza cartelli o cortei ma un flash mob costruito su tovaglie, piatti, bicchieri, snack e bibite. Umberto Carriera, fondatore del Movimento Io Apro, ha offerto le pizze portandole dal suo ristorante. Un aperitivo no Green Pass che è stato replicato in altre piazze italiane. Come a dire, al ristorante mi viene vietato di andare ma posso sempre mangiare all'aperto e in compagnia. E se l'opzione è al confine del tollerabile lo è molto meno presentarsi quasi tutti senza mascherina in viso e contravvenendo alla richiesta di distanziamento sociale.